Anche il mondo dello sport contro la violenza sulle donne, nei prossimi giorni fino a domenica su iniziativa WISP, vari appuntamenti in diverse città italiane. La prima carta dei diritti delle donne nello sport, finalmente oggi in Parlamento, è stata approvata una mozione che riguarda appunto la parità di genere nello sport. Una giornata positiva per le donne, per lo sport italiano, la parità di accesso alle discipline sportive, allo sport per tutti da parte di uomini e donne perché sono ancora troppe le discriminazioni che le donne vivono nel mondo dello sport. Io corro per la libertà di essere se stessi. Se non c'erano le donne il friscismo non lo si cacciava. È stata definita la staffetta subito dopo la quella, la figura più leggendaria di tutta la resistenza. Grazie.